Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di YouTube, quest'oggi parleremo del perché la competizione fa bene. Tante persone dicono, ah no, non entro nel business degli affitti brevi perché magari c'è più competizione rispetto all'anno scorso e ne parlano con un'accezione negativa, come se il fatto che ci fosse più competizione fosse un qualcosa di negativo. Quando in realtà è esattamente l'opposto e in questo video ti spiego il perché. Partiamo dal presupposto che questa è una legge, bene o male, universale, non è un qualcosa che si applica solo ed esclusivamente al mondo degli affetti brevi, ma si applica al business a 360 gradi. Infatti è un'affermazione che hanno fatto alcuni dei più grandi imprenditori del mondo, ovvero che la competizione fa bene al mercato. Perché? Perché la competizione ti spinge a migliorare. Il fatto che tu abbia dei competitor fa sì che tu abbia, passami il termine, la strizza, la paura che questo competitor possa raggiungerti, possa sovrastarti e quindi mantieni il tuo livello di attenzione molto alto e anche di conseguenza il tuo prodotto tende ad essere di qualità maggiore. Non a caso determinate tecnologie si sono evolute proprio grazie al fatto che sono arrivati nuovi player nel mercato. Quando si ha il monopolio di un qualcosa, di norma si tende a mantenere quel servizio così com'è, perché non ci sono competitor e quindi può rimanere un servizio scadente. Invece tutti quei settori dove il mercato è libero e chiunque può entrare, portare il suo prodotto, portare innovazione, sono poi i mercati che crescono di più in assoluto. Ad esempio la tecnologia. Mentre se vediamo determinati mercati sono rimasti uguali da sempre per sempre. Oppure fino a un po' di tempo fa esistevano solo le banche classiche, poi sono arrivate le banche online e hanno delle applicazioni che funzionano 100 volte meglio rispetto alle banche molto più grandi classiche. Perché? Perché evidentemente queste banche vivevano di fama, vivevano di rendita, non si sono messe al passo con i tempi e fortunatamente comunque la competizione in questo caso sta comunque facendo bene perché le banche classiche stanno cercando di innovare ed è ancora una volta un esempio di come in realtà sia molto utile la competizione. Ma adesso entriamo nello specifico e parliamo del settore degli affitti brevi, ovvero di come la competizione fa bene al settore degli affitti brevi. E fa bene da due punti di vista. Dal punto di vista di host, property manager, quindi diciamo noi che magari siamo dietro le quinte di questo business e soprattutto fa bene anche ai clienti finali. E uno potrebbe dire ma a me che me frega del cliente finale. No, ti deve interessare che il cliente finale sia soddisfatto, che la sua esperienza d'uso migliori, perché se il cliente è soddisfatto continua ad utilizzare il servizio e noi guadagniamo. Se domani tutti smettessero di utilizzare Airbnb o Booking, noi saremo senza lavoro. Quindi è importante che comunque questa competizione porti dei vantaggi non solo a noi, ma anche ai nostri clienti. E comunque il tutto è correlato. Se i nostri clienti hanno dei vantaggi ce li abbiamo anche noi, se non ce li hanno loro non ce li abbiamo neanche noi. Questo deve essere chiaro. Puoi avere il business più bello del mondo, ma se non hai dei clienti non serve a niente. E qui giungiamo al perché la competizione fa bene e non fa male. La competizione non è quella cosa che ti fa fallire, ti fa fallire la mancanza di clientela. Ed ecco perché è importante che il cliente sia soddisfatto. E per essere soddisfatto appunto bisogna migliorarsi e la competizione ci fa migliorare. Andiamo ancora più nello specifico perché qualcuno potrebbe non capire. Quando sono entrato nel settore degli affitti brevi molti anni fa, l'immobile più bello che potevi trovare era un immobile le cui foto erano state scattate con un iPhone. Titoli, lasciamo perdere, erano delle robe veramente inguardabili. Qualità degli immobili era tutto praticamente arredato Ikea, zero home staging e la qualità in generale, seppur arredato Ikea, era molto bassa. Oggi invece abbiamo immobili arredati Ikea di qualità molto alta, ma perché sono comunque arredati con Ikea, ma con gusto, con funzionalità, con un senso logico. Il tutto grazie alla formazione che abbiamo portato nel mercato. Quindi anni fa un cliente tipo che arrivava su Airbnb doveva cercare il meno peggio e spendeva sui 100 euro a notte circa per stare in una città come Milano-Roma per una o due persone. Oggi a distanza di anni, nonostante l'inflazione, devo essere onesto, i prezzi non sono aumentati vertiginosamente. Magari dai 100 euro di prima adesso possiamo chiedere 120-130 euro a notte. Ma la qualità dei mobili è aumentata. Dei mobili inteso non come i mobili che mettiamo in casa, ma proprio la qualità degli immobili che pubblichiamo su Airbnb. Questo ci ha permesso innanzitutto di alzare da 100 euro di media circa, appunto a 120-130, che può sembrare poco, ma se questi 30 euro extra li moltiplichiamo per 365 giorni l'anno, vi rendete conto che, insomma, sono quasi 10.000 euro in più che vi mettete in tasca a fine anno. Perché questa cosa ci ha fatto bene? Beh, questo è stato innanzitutto frutto della competizione. Noi come B&B Academy abbiamo immesso nel mercato moltissimi mobili che hanno seguito il metodo B&B Academy. Il metodo B&B Academy che presuppone non solo che gli arredi siano coerenti, siano carini e tutto quanto, seppur la casa può essere arredata a Ikea o addirittura con oggetti usati, ma presuppone che tutto il pacchetto, diciamo, le foto, il titolo, la descrizione e quant'altro, siano fatti con un determinato criterio, con il metodo B&B Academy. E quindi cos'è successo? Che magari prima nel mercato c'erano un determinato quantitativo di immobili, fingiamo 10.000 in tutta Italia, che però avevano una qualità molto bassa. Noi ne abbiamo immessi nel mercato magari altri 10.000 come community B&B Academy, e cos'è successo? Che di punto in bianco tutti quelli che lavoravano con un metodo scarso, addirittura senza un metodo, senza aver fatto formazione, di punto in bianco hanno praticamente perso il loro mercato. Però avrebbero potuto non perdere queste prenotazioni e non perdere soldi, adeguandosi al mercato anch'essi, quindi mantenendo alto il loro standard e soprattutto iniziando a formarsi. E quindi cosa succede? Che ad oggi ci troviamo con due fazioni. Le vecchie guardie di Airbnb, quindi coloro che sono dentro il mercato da tantissimi anni, che però hanno mantenuto quegli standard bassi, che dicono che il business non funziona più, che il mercato è saturo, che abbiamo rovinato il mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Praticamente a questa gente li brucia il sedere che dei nuovi siano riusciti ad imporsi, e riescano ad imporsi ogni giorno, perché ogni studente B&B Academy che parte ottiene dei risultati incredibili, e loro abbiano perso fette di mercato. E dall'altra parte abbiamo un'altra fazione, che sono appunto ad esempio gli studenti B&B Academy, persone che fino all'altro ieri magari non sapevano neanche cosa fosse un Airbnb, e seguendo il nostro metodo invece riesce a immettere degli immobili nel mercato, ottenere prenotazioni ed essere fortemente soddisfatto. Com'è possibile ciò? Quindi com'è possibile che da una parte abbiamo delle persone insoddisfatte, dall'altra parte abbiamo delle persone che parlano di questo business come della rivoluzione del secolo che gli sta permettendo di guadagnare un sacco di soldi, perché non c'è più spazio nel mercato per essere arrangiati. Non c'è più spazio nel mercato per operare a sentimento, per fare le foto con lo smartphone, per fare il titolo che vi viene così in mente per caso, la descrizione molto corta, e soprattutto non c'è più spazio per chi non fa ricerche di mercato, che è un tema importantissimo che dentro il B&B Academy spieghiamo per filo e per segno. Quindi grazie a questo ricircolo nel mercato, persone come noi che abbiamo un metodo, riusciamo non solo a immettere degli immobili ad investimento zero o con degli sforzi economici molto piccoli, ma riusciamo anche a guadagnare di più rispetto agli altri e a guadagnare laddove gli altri non guadagnano. Ma se vi ricordate, all'inizio del video, vi spiegavo che è importante che anche i clienti abbiano dei benefici, perché se i clienti hanno dei benefici, spendono di più sulla piattaforma, ritornano sulla piattaforma, prenotano più case, e se ciò accade, di conseguenza anche noi guadagniamo di più, e quindi un circolo virtuoso dove se i clienti sono felici, noi guadagniamo di più. E infatti i dati di Airbnb e Booking sono in costante crescita e i loro ricavi crescono, e di conseguenza anche i ricavi di noi host crescono. E quindi che cosa significa che i clienti sono più contenti, sono più soddisfatti? Beh, significa che siccome prima spendevano 100 euro, ma avevano magari un immobile di qualità molto bassa, adesso spendono 20-30 euro in più, ma hanno un immobile che magari è tre volte, quattro volte migliore rispetto al passato. Cioè come se io vi dicessi ragazzi, oggi potete spendere 20 euro in più, ma avere una casa tre volte più bella. È ovvio che chiunque accetterebbe per 20 euro una casa tre volte più bella. Prima gli Airbnb erano case magari senza le lenzuola, senza la biancheria, arrivavi lì e ti trovavi il materasso, dovevi portarti le lenzuola da casa. Oggi gli immobili posti su Airbnb, grazie alla rivoluzione Airbnb Academy, sono delle praticamente suite d'albergo. Quasi più nessuno vuole andare in hotel a spendere 500, 600, 700 euro a notte, quando con 150 euro sono in una bellissima casa equiparabile ad una suite d'hotel che in più ha il vantaggio di avere la cucina e la lavatrice. Ed ecco perché è importantissima la competizione e non deve essere vista come un qualcosa di negativo il fatto che ci siano nuove persone che entrano nel mercato. Al contrario deve essere vista come un qualcosa che ci sprona a migliorarci, a mantenere alta la qualità e soprattutto a seguire ancora pedisseguamente il metodo Airbnb Academy. Ed ecco perché abbiamo tantissime persone, come dicevo all'inizio, che dicono che per loro questo business non ne vale più la pena e stanno uscendo dal mercato, facendo così ancora più spazio per noi. E dall'altra parte abbiamo centinaia di video testimonianze, noi di Airbnb Academy, comprovate con dei link dove potete vedere gli annunci e queste persone che si sono affidate a noi stanno guadagnando un sacco di denaro. Persone che se ne vanno, che si lamentano, che si piangono addosso e persone che guadagnano un sacco di soldi, che ottengono risultati e che ne vogliono sempre di più. Come vedete il confine è labile, si parla dello stesso business, ma il come facciamo questo business, il come ci approcciamo a questo business fa una differenza incredibile. Spero che questo concetto vi sia stato chiaro ma soprattutto utile e se ancora non siete nel business degli affetti brevi o volete saperne di più, ho preparato dei contenuti gratuiti ai quali potete accedere qua in basso. Mi raccomando, sono gratis, sono di altissimo valore, non perdeteveli per nessun motivo al mondo. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e se volete comunicarmi qualcosa, chiedermi un qualcosa, utilizzate i commenti all'interno di questo video. Ciao!